Eccoci e bentornati sul mio canale! Oggi siamo in compagnia di Toy Soldiers Warcast, gioco disponibile dallo scorso 11 di agosto su Xbox One e PC e sempre dallo scorso 12 di agosto invece per PlayStation 4. Il gioco è un mix tra azione e tower defensor della Ubisoft e sviluppato da Signal Studios. Allora, oggi ci andiamo a fare subito per bene, direi, di farci il tutorial per vedere un po' come funziona il gioco. Ovviamente a 300 mi piace, subito un nuovo video, mi fate sapere se volete vedere la prima missione oppure se volete vedere il multiplayer, così almeno cominciamo a giocarci per bene. Penso che sia veramente molto veloce e molto frenetico come gioco perché dovremmo creare veramente il devasto con le nostre truppe. Infatti, come dice, è un mix tra azione perché prenderemo ovviamente il controllo proprio delle truppe proprio sul campo e un tower defensor perché dobbiamo ovviamente difendere la postazione. Adesso diamo il tempo del caricamento della lezione, quindi presumo il tutorial, così almeno andiamo a farci una bella partitozza insieme. Vediamo un po' tutti i vari meccanismi, tutti i vari funzionamenti e così ce lo spariamo per bene. Poi, a 300 mi piace, prima missione, primo devasto, primo delirio, insieme. Coccolare o sacchiotti se sta caricando? Sostituire lampadine e incollare Alia da Eric. Simpatico tutto quello che scrive sotto come caricamento. Eriggere ponti, soprattutto cocolare o sacchiotti era simpatico. Rimuovere bastoncini. Eccolo qua, è pronto. Penso che ha finito il caricamento. Andiamo. Ecco qua il mondo di gioco. Lezione. Benvenuto a Toy Soldiers. La prima riparazione ripara una torretta. Il primo potenziamento potenzia una torretta. Ecco il tuo baule dei giocattoli. Quando vi si avvicina un nemico il baule dei giocattoli perde energia. Difendi il tuo baule dei giocattoli a tutti i costi. Ecco l'energia e i soldi ottenuti con il tuo baule dei giocattoli. Perfetto. Puoi spostare la telecamera in qualsiasi direzione. Ok. Puoi ruotare la telecamera e usare lo zoom. Benissimo. Attiva la telecamera strategica per una visuale generica del campo di battaglia. Ok. Disattiva la telecamera strategica per tornare alla visuale predefinita. Per proteggere il tuo baule dei giocattoli devi eriggere delle torrette. Benissimo. Posiziona il tuo cursore sulla postazione e selezionala. Mettiamo l'antifanteria. Ok. E ok. La sta creando. Vediamo un po'. Ok. Prima. Oh. Eccoli. Guarda che delirio. Sta ammazzati tutti i nemici. Per le torrette servono soldi. Ottieni denaro. Eliminate i giocatori nemici. Perfetto. Oh. Subito delirio. Subito delirio. Le torrette funzionano da sole ma vi sono vantaggi unici se le usi tu. Perfetto. Posiziona il tuo cursore sul maxim e selezionalo. Ok. Scegli di usare la torretta. Bello. Ah eccoci. Bello. Mo si. Mo si ragazzi. Mo si che ci piace. Bene. Arma da fuoco. Ah con questo miriamo. RB. Arma secondaria. Oh che volete fa? Che volete avvicinare? Nemici distrutti. Grande. Amante show. Guarda quanti. Guarda quanti. Arma secondaria questa non c'è. Provisuale ingrandita. Abbasso i mirini. Usa zoom. Ok. Vai. Devastalo. Devastali. Devastali. Ricorda che cos'è. Ecco il tuo indicatore azioni. Se metti a segno delle uccisioni contro le unità rimpirai la barra azione. Ok. E adesso che ci facciamo? Guarda quanto denaro ottenuto ragazzi. Bigata epica. Bigata epica. Comunque sono tanti eh. 10 pera stiamo facendo eh. 10 pera. Morite. Via. Via giù. Via giù. Dobbiamo riempire penso la barra delle energie ragazzi. Ma. Anche perché bisogna farselo il tutorial. Se no ne potiamo andare allo sbando così. Su su. Molto critico addirittura. Spagna tutti. Dov'hai te eh. Cazzarda avvicinante. Dai. Dai. Delirio. 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 Che è successo? Ah. Finito le premonizioni. Come arma secondaria non abbiamo niente. Vero? Oh. Dai. 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 Kaiser disponibile. Volevo provarlo? Ah. Ha fatto da solo. Bene. Ora chiama il tuo eroe. Menù azioni. Chi è? Ah. Eccolo qua. Il tedesco penso. Bello. Forte. Granate. Ricarica. Schiva. Si. Cacchia. Ma che si sono abitanti. Bellissimo. Proprio quel coso. L'energia. L'energizer. Proprio la batteria. Ci abbiamo. RB le granate. Forte. Cambia arma. Questo che lancia granate. Figatissima. Questa è figatissima. Mamma mia. Grande. Però non c'è nessuno da sconfiggere. È solo così. Ah. Eccoli. Forza. Forza. Mamma mia. Mamma mia. Il nostro eroe che è epico. Ma cacchio. Ho finito. Forza. Granata. Granata. Aspetta. 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 Su. Grande. Numeri veri. Numeri veri ragazzi. Per il nostro eroe. Il nostro eroe. Cacchio. Su. 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 Aspetta. Aspetta. E vengono pure da quest'altra parte. Grande. Grande. Mi sta affomentare ragazzi. Mi sta affomentare. Mamma mia. Mi sta affomentando. Mi sta affomentando. Dai. 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 Non gli faccio manco. Non gli do un po' tempo di scende. Abbate. Chiazza. Quasi per finire. Un 50 per. Ci sono trattati già. Oh. Forza. Forza. Non vi avvicinerete. Su. Grande. Ho finito le granate. Purtroppo. Un 75 per ragazzi. Un 75 per. Aia. 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 Qua sparano. Qua sparano. Via. So finire il tempo. L'autonomia dell'eroe. Dai. 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 Accomfittiamo degli ultimi colpi. Forza. Forza. Ok. Finito. Uh. 10.760. Che figata. Ok. Tutti sconfitti. Ecco la lista delle ondate nemiche. Mostra le prossime ondate così potrai prepararti. Uno di 14. Quindi fra un minuto e 30 arriva. I simboli indicano il tipo di ondata. Perfetto. La prossima ondata ha un conto alla rovescia. Quando sei pronto seleziona il pulsante e lancia ordata. Ordata. Fortissimo. Ok. Continua. Vediamo. Vi sono molte torrette a tua disposizione. Prova a costruire alcune per difendere il tuo baule dei giocattoli. Quindi andiamo qua. Mettiamo un'altra bella torretta. Mentre di qua ci possiamo mettere... Questo che è? Questo penso che sia di W lancia razzi. Qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Ok. Penso di averle messe. Siamo ben protetti così. Questo dovrebbe essere il nostro baule dei giocattoli. Qua non ci posso mettere nient'altro. Vero? Ma no. Ne posso mettere l'altra. Vamo una qua. Prendiamo un po' qua. Poi ci posso mettere niente. Solo quelle... Oh eccoli. Eccoli. Eccoli ragazzi. Stanno arrivando... Un minuto e 14. Sto a vedere se ne possiamo mettere altre in giro. Qua no. Solo a quelle circolari si possono mettere. Vero? Non mi sembra che ci siano altri punti dove piazzarli. Ok. Lancia l'ondata. Sei pronti regà? Proviamo questa. Ma va. Vai. Ho visto che è tipo una... Oh vai. Vai vai. Boom. Cacchiannate. Cacchiannate. Vai qua. Forza. Forza. Bazzardate. Avvicinando al castello. Non bazzardate. Aspetta va. Esci. Aspetta e voglio cambiare. Voglio mettere la mitragliatrice che è meglio. Vai. Così. La due arrivano da qua. Eccoli qua. Vai 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 vai. Subito il delirio. Subito il delirio. Subito il delirio. Damo namo 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 namo. Oh. Subito un 5x. Subito un 5x. Ci sarebbe stato bene. Lo sapete cosa? Una bella minimappa. Dai 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 dai. Su su su. 10x. 10x. Li facciamo avvicinare. Colpo grido. Colpo cuore il giocatore. Sotto attacco. Chi ho? Cacchio. Sotto chi ho? Sono andati? Ok. Sconficciamo questi. Su 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 su. Dai 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 dai. 20 secondi e finisce sta ondata regà. 20 secondi. 20 secondi. Dai dai. Mamma mia. Quando si spara così. Io del genere o del brutto regà. Li faccio proprio avvicinare. Li facciamo rimanere là. Colpo critico. Come se piovesse. Dai 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 dai. Dai dai. Due secondi. Due secondi. Un secondo. Ok. Oh. Eccoli. Eccoli. Eccoli che arrivano. Forza. Aspetta. Aspetta. Prendilo. Ok. Namo 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 namo. Giocattolo. Su su. Aspetta. Forza. 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 Cacchio. Cacchio va questo. Ok. Cacchio è pronto. Cacchio è pronto. Non va avvicinate. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Che poi la cosa bella ci stanno. Un mare dei personaggi ci stanno. A sto gioco. Forza. Ok. Andata. Ragazzi. Potenziale torrette per aumentare i raggi. Dani energia. Seleziona una torretta per potenziarla. Potenziale. Proiettili cinetici. Bello. Andiamo qua. Anche qui i proiettili cinetici. Qua e qua. Granate a frammentazione. L'avevo messa in altra. Questo. Proiettili cinetici. Benissimo. Aspetta che. Qua che ci abbiamo ripara. Sacchi di sabbia. Perfetto. Oh oh oh. Qua stanno arrivare ragazzi. Qua stanno arrivare. Aspetta che ci metto pure qua. Sacchi di sabbia. Forza. 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 Qua. Ok. Benissimo. Così almeno stiamo pure più protetti. Fatemi prendere una mitragliatrice. Vai. Controllala. Controlla. Gira. 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 Guardate voi. Dove cacchio pensate di andare? Dove cacchio pensi di andare? Guarda quello dove. Forza. Muori. Perfetto. La prossima andata è formata a corazzati. Assicurati di avere torretti anticorazzati. Puoi vendere le torrette attuali. Selezionandole. Ok ragazzi. Direi che come primo video ci siamo. Spero che il video stasse a vostro gradimento. A 300 mi piace subito il prossimo video di Toy Soldier Worldcast. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video. Sempre qui, sempre sul mio canale.